Ancora una volta si ritrovano a dover domare le fiamme i vigili del fuoco. Questa volta si tratta di un vasto incendio a San Cataldo, dove le fiamme sono state anche alimentate dal vento, coinvolgendo la zona periferica della città, con trada Palombara, Ianni Greco, sino ad avvicinarsi anche al quartiere Mimiani. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal vicecomandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Augusto Fonti. È stato chiesto anche il supporto aereo con l'intervento di due Canadair e un elicottero per l'antincendio boschivo. In via precauzionale sono state allontanate delle famiglie residenti nelle abitazioni vicine ai fronti di fuoco per evitare l'inalazione di fumi. In questi casi, infatti, i vigili del fuoco suggeriscono di tenere le finestre e balconi chiusi per evitare che il fumo entri in casa. Sul posto presenti tre squadre dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Forestali, Pantere Verdi, Protezione Civile, alcuni volontari e anche le forze dell'ordine. Tra cui Carabinieri e Municipale. È stato richiesto anche l'intervento di una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Mussomeli e una dal comando di Enna.